Diamo il benvenuto ad Alessia Bartolomucci, che è un'attrice professionista di teatro e di cinema. Diplomata all'Accademia Studio Cinema Roma a Verona, ha progetti all'attivo sia sul piccolo che sul grande schermo. È impegnata in produzioni anche di carattere sociale. L'Uni a 11 novembre 1521, uno degli figlioli del re di Tarenate, Chesil de Rouat, vestito di velluto rosso, venne alle navi con due prao, suonando con quelle borchie, e non vi volse allora entrare nelle navi. Costui teneva la donna, gli figlioli e le altre cose di Francesco Serrano. Quando lo conoscessimo, mandassimo dire al re se il dovevamo ricevere, perché eramo nel suo porto. Ne rispose facessimo come volevamo. Lo figliolo del re, vedendone star sospesi, si discostò alquanto delle navi. Lì andassimo col battello a presentarli un panno de oro e de seta indiano con alquanti coltelli, specchi e forbici. Accettò li con un poco de sdegno e subito si ripartì. Costui aveva a secco un indio cristiano chiamato Manuel, servitore di un Petro Alfonso della Rosa, portoghese, lo qual dopo la morte di Francesco Serrano venne da Bandan a Tarenate. Il servitore, per saper parlare il portoghese, entrò nelle navi e dissene che sebbene gli figlioli del re di Tarenate erano nemici del re di Tadore, niente de meno sempre stavano al servizio del re di Spagna. Mandassimo una lettera a Pietro Alfonso della Rosa per questo suo servitore, dicendo che dovessero venire senza sospetto alcuno. Questi re teneno quante donne voleno, ma ne hanno una per sua moglie principale e tutte le altre obbediscono a questa. Il re di Tadore aveva una casa grande fuori delle città, dove stavano duecento sue donne delle più principali e altre tante che le servivano. Quando lo resta solo, ovvero con la sua moglie principale, in uno luogo alto come un tribunale, ove può vedere tutte le altre che gli si siedono attorno e a quella che più gli piace li comanda vada a dormire seco quella notte. Finito lo mangiare, se lui comanda che queste mangino insieme, lo fanno. Se non, ognuna va a mangiare nella sua camera. Niuno senza licenza del re le può vedere. E se qualcuno è trovato, o di giorno o di notte, appresso la casa del re, è ammazzato. Ogni famiglia è obbligata a dare al re uno o due figliuole. Questo re aveva 26 figliuoli, otto maschi e il resto femmine. Dinanzi a questa isola ne è una grandissima, chiamata Jailolo, che è abitata da mori e da gentili. Si trovarono due re fra li mori. Sì, come mi disse il re che uno aveva avuto 600 figliuoli e l'altro 525. Li gentili non teneno tante donne. Ne vivono con tante superstizioni, ma adorano la prima cosa che vedono al mattino, quando escono fuori da casa per tutto il giorno. Il re di questi gentili, detto Raiapapua, è ricchissimo di oro e abita dentro in la isola. In questa isola dei Jailolo nascono sopra da sassi vivi, canne grosse come la gamba, piene di acqua molto buona da bere. Ne compravamo assai da questi popoli.